Nessuno sconto di pena per Peter Polverini, il ventotenne di San Giustino Umbro, che nell'estate del 2016 uccise a martellate Katia Dell'Omarino. La prima sezione della Corte di Cassazione ha infatti confermato la condanna a 14 anni di reclusione, respingendo così il ricorso presentato dalla Difesa dell'Uomo, assistito dagli avvocati Mario Chirubini e Piero Melani Graverini, che chiedevano di ridurre la pena riconoscendo le attenuanti non considerate nei primi due gradi di giudizio. Resta dunque l'aggravante della minorata Difesa, mentre è stata negata quella della provocazione e non è stato inoltre riconosciuto il parziale vizio di mente del giovane. In primo grado Polverini fu condannato a 16 anni di reclusione, ottenne poi uno sconto di pena di due anni in appello. Adesso è confermata la condanna, il giovane resterà nel carcere di Orvieto, dove attualmente si trova detenuto. Ovviamente la paura e il rischio, ricorrendo in Cassazione, era un ulteriore abbassamento di pena che per la famiglia sarebbe stato un ulteriore colpo, perché ovviamente dopo la diminuzione dai 16 ai 14 in corte d'appello avrebbero preso, visto non di buon grado, un ulteriore riduzione. Anche loro sono quattro anni che praticamente vanno dietro a questa vicenda, tutte le volte è un aprire una ferita, sempre la stessa ferita, quindi adesso possiamo mettere un punto. L'omicidio si consumò nella notte tra l'11 e il 12 luglio 2016 a Sansepolcro. Il cadavere della donna fu ritrovato all'alba sul greto del torrente Afra da un passante. Peter Polverini fu arrestato dai carabinieri nel settembre 2016. Confessò poi il delitto, avrebbe ucciso la donna per una lite per 10 euro per una prestazione sessuale. Quella notte, prima, la presa calci e pugni, poi impugnò un martello, la massacrò e lasciò il corpo lungo il torrente.